E siamo in diretta, lasciamo spazio, si sono accesi i riflettori sull'edizione 2017 della Rassegna Bolognese. Benvenuti al Motor Show di Bologna, dallo stand FCA, una presenza importante che sta a testimoniare la presenza della Casa del Lingotto, qui il ritorno ai vecchi fasti della Rassegna Bolognese e soprattutto con le grandi novità firmate Fiat Automobili. Del resto, anche se ormai la chiamiamo FCA, per quello che riguarda la 500 rimarrà sempre un'auto tipicamente made in Italy. Questo è il suo sessantesimo anniversario e questo 2017 è l'anno giusto e il Motor Show di Bologna la rassegna giusta, il palcoscenico giusto per celebrarla. Per questo sessantesimo anniversario l'autovettura, questa iconica city car, è stata realizzata in alcune versioni tipicamente apprezzabili dal gentil sesso. Ad esempio una versione cabrio, quella che vedete, è una vettura che sfoggia una inedita livrea, l'hanno chiamata Dolce Vita, bicolore, abbina il bianco tristrato con un avorio pastello e poi c'è la possibilità di personalizzare la vettura come si desidera, da cerchi in lega leggera specifici 17 pollici, dettagli retro che vogliono appunto sottolineare l'eleganza di questa autovettura che è una delle city car più vendute in assoluto in tutto il mondo, uno stile inimitabile che molti hanno cercato di avvicinare ma assolutamente nessuno è riuscito fino ad ora ad eguagliare. Questo è un palcoscenico importante, la rassegna bolognese vuole dedicare ampio spazio a FCA che è tornato in grande lustro, del resto questi sono gli anni della rimonta per la rassegna bolognese. Il Motor Show ha conosciuto alcuni anni di ombra e adesso con la nuova rinnovata gestione che la vede un po' anche in movimento vuole riportare i brand più importanti, FCA è protagonista assoluto nel palcoscenico mondiale e ad esempio questo è un segmento importante, ci credono molto, la Casa del Lingotto punta anche su queste versioni cross come questo fullback assolutamente inedito per andare dappertutto, per non fermarsi mai e non conoscere né ostacoli né impedimenti. Per affrontare meglio la stagione invernale, del resto è quella che abbiamo di fronte Fiat propone alcuni dei suoi modelli di maggiore successo con questo allestimento che vedete si chiama cross è disponibile sul fullback ma anche su questa panda che qui dà bella mostra di sé, ha un aspetto da off-road è un prezzo assolutamente accessibile per tutti, le motorizzazioni le ricordo sono un 1200 benzina, un turbodiesel, multijet insomma si tratta di allestimenti destinati a chi è giovane, a chi si sente giovane e per chi vuole assolutamente divertirsi anche il pick up che abbiamo appena visto, questo fullback è declinato in versione cross e vanta un assetto, una sport bar assolutamente aerodinamica è un allestimento sportivo volto a conquistare nuove fette di mercato, nuovi segmenti assolutamente interessanti questo è FCA e non solo, molto altro dalla rassegna bolognese targata 2017